ragazzi buongiorno visto che la settimana scorsa c'erano molti assenti ne approfitto per fare uno stop and go per fissare alcuni punti importanti degli argomenti che abbiamo affrontato così poi quando ritorniamo a scuola speriamo domani possiamo continuare il nostro percorso insieme allora abbiamo parlato della letteratura del 600 in particolare del barocco cosa abbiamo detto del barocco che via via che l'indagine scientifica e filosofica metteva in discussione le teorie antiche anche l'arte e la letteratura abbandonano i modelli classici per sperimentare forme nuove originali cosa vuol dire questo vuol dire che con la scoperta del metodo sperimentale il metodo sperimentale poi si diffonde in qualunque ramo del sapere e in qualche modo anche il barocco vuole sperimentare dal momento che i progressi scientifici avevano rilevato che la realtà era molto più complessa e sorprendente venne elaborata la poetica della meraviglia cioè la ricerca del nuovo dello stupefacente dell'immagine inconsueta lo scopo del barocco è quello di far provare piacere a chi legge sollecitando i sensi e l'immaginazione il nome deriva da una perla irregolare un termine portoghese e viene coniato nel 700 in senso negativo negativo allora andiamo avanti col vostro libro abbiamo parlato di giambattista marino poeta molto famoso che ha una disputa con gaspare murtola che finisce a pistolettate e che ribadisce un principio che valida ancora oggi se c'è un successo di pubblico vuol dire che l'opera è valida d'accordo è lui che descrive la poi la poetica della meraviglia in un suo sonetto è lui che dà questa definizione quindi il rapporto col pubblico è quello l'idea di marino è che se c'è successo vuol dire che l'opera è buona e guardate che questa è molto è molto importante perché poi oggi nel mondo culturale nel mondo artistico si cerca appunto il successo a scapito spesso del contenuto abbiamo anche detto che il barocco in realtà è una corrente dominata dalla tristezza e dal senso della morte intanto abbiamo uno scontro fra chiesa e scienza in secondo luogo le scoperte scientifiche mettono in crisi tutte le sicurezze quindi c'è un prevalere dell'incertezza una profonda inquietudine il mondo all'improvviso non è più quello che si pensava che fosse alcune scoperte scientifiche e tecnologiche come il cannocchiale il microscopio ci permettono di vedere cose permettono agli uomini di vedere cose che prima non era possibile vedere gli scienziati volgono l'attenzione verso i criteri misurabilità esattezza e specializzazione capite anche voi che passare dall'idea che l'uomo è al centro del mondo a quella che l'uomo è in infinitesima parte dell'universo un po di inquietudine la generava quindi cambiano le percezioni dello spazio e del tempo l'universo si credeva eterno invece all'improvviso si scopre che è mutabile che addirittura può finire viene messa in discussione la stessa idea di dio in qualche modo infatti molti filosofi e artisti ahimè finiscono finiscono su rogo e quindi c'è un senso tragico dell'esistenza un senso tragico perché l'uomo del seicento pensa che siamo niente in realtà al cospetto dell'universo abbiamo visto che il rapporto tra individuo universo al centro delle opere di giordano bruno e tommaso campanella bruno considera con una grande preveggenza la natura e anche campanella questo come unica universalmente animati in cui gli esseri sono legati da corrispondenze misteriose vi ho detto che questo ha una qualche relazione con le recenti teorie biologiche su gaia che tendono a considerare la terra come un essere vivente noi come parte di di quest'essere di quest'essere vivente questo senso tragico dell'esistenza lo si riscontra nella poesia barocca vi ricordo che lirica è un sinonimo di poesia d'accordo dove abbiamo sì le invenzioni letterarie sì il cercare di stupire ma abbiamo anche un senso profondo della morte l'angoscia della morte nei nella poesia barocca una diversa attenzione anche al mondo femminile la bellezza femminile molto diversa da quella dei poeti precedenti ci sono anche lodi a donne brutte un'analisi dell'esteriorità che non testimoniava affatto una visione del mondo serena e pacifica ma nascondeva il senso dell'incertezza della pregarietà dell'illusorietà della vita e della fugacità in qualche modo era un modo per fuggire alla realtà la poetica barocca che usa moltissimo la metafora usa delle metafore prolungate spesso per l'intera poesia quindi una sperimentazione assoluta e ardita abbiamo letto un paio di poesie barocche e poi ci siamo soffermati su quel capolavoro assoluto dove perdiamo qualche minuto in più che è don quixote il don quixote è un'opera che anticipa il romanzo moderno anzi il don quixote è il capostipite del romanzo moderno europeo intanto c'è una rappresentazione della vita quotidiana degli strati sociali più umili poi c'è la consapevolezza del carattere artificioso della letteratura e del rapporto problematico tra letteratura e vita cosa vuol dire don quixote è un vecchio signore appassionato di letteratura cavalleresca che all'epoca era un po come la fantasy oggi che a un certo punto un giorno impazzisce decide di diventare un cavaliere errante e correggere i torti del mondo quindi da un lato abbiamo una letteratura che era finta che era improntata al divertimento che voleva divertire e dall'altro c'è il rapporto problematico tra letteratura e vita soprattutto quando si decide della propria vita di fare letteratura o della letteratura di trasformare la letteratura in vita come fa don quixote che è consapevolissimo della sua scelta don quixote non è pazzo è consapevole di essere pazzo abbiamo nel don quixote una mescolanza di comico e tragico ma anche il comico è comunque ricoperto da una patina di tristezza cioè quando don quixote si schianta contro i mulini a vento quando viene picchiato quando cade in uno dei suoi famosi equivoci fa ridere ma mette anche tristezza si finisce poi per stare tutto tutti dalla parte di don quixote c'è un impiego di tecniche narrative nuove la pluralità dei punti di vista quello di don quixote sancio panza e lo sviluppo a incastro dell'intreccio la vita di servantes è un po come un romanzo non proprio come don quixote però insomma nasce a madrid vive tra civili e la capitale spagnola seguendo il padre medico e chirurgo nel 68 viene accusato del ferimento di un certo antonio adessegure fugge in italia dove diviene cortigiano e il cardinale acqua viva sceglie poi la professione militare nel 1571 partecipa alla battaglia di le pantò contro i turchi durante la quale viene ferito e perde l'uso della mano sinistra nel 1575 viene fatto prigioniero dai corsari turchi e venduto come schiava ad algeri nel 1580 torna in spagna dove ricopre diversi impieghi amministrativi e si dedica alla scrittura muore a madrid nel 1616 lo scrive tardi don quixote nel 1605 quindi è un autore che vive molto e poi scrive scrive quest'opera che è diviso in due parti la prima è formata da 52 capitoli pubblicata nel 1605 la seconda in 74 capitoli è stampata dieci anni dopo nel 1615 perché stampata dieci anni dopo perché c'erano state tante imitazioni perché don quixote è un successo strepitoso e allora cervantes decide di appropriarsi del suo del suo personaggio aveva creato uno stereotipo se ne accorto subito don quixote rimanda romanzo pigaresco cioè al romanzo di quei protagonisti un po banditi un po cialtroni un po sensarte né parte che abitavano la letteratura spagnola del tempo servante si impiega la tecnica del narratore onnisciente e però a volte adotti i punti di vista dei personaggi in altri commenti ed esprime giudizi sui protagonisti e le vicende quindi c'è una continua moltiplicazione della realtà romanzesca se volete c'è un continuo metà romanzo romanzo nel romanzo che servante spresenta nelle sue diverse sfaccettature il sovrapporsi continuo di letteratura e vita di fantasticheria e realtà che è tipico di don quixote evidenzia il lato tragico dell'esistenza soprattutto l'inutilità delle azioni umane l'incapacità di comprendere la verità del mondo frutto di quella confusione di cui vi ho parlato prima frutto del fatto che le scoperte scientifiche il metodo sperimentale tutta quella bella roba che abbiamo visto invece di consolidare le sicurezze le distruggono era una vita molto semplice prima improvvisamente tutto appare molto più complesso tutte le azioni di don quixote sono caratterizzate dall'impossibilità di agire nella realtà e di incidervi di cambiarla sono assurde come assurdo e problematico il mondo in cui il cavaliere errante si muove è una visione pessimistica dell'esistenza certamente sì assolutamente sì la visione di una realtà incerta contraddittoria sfuggente fa del don quixote una rappresentazione parziale ma precisa del disorientamento dell'uomo del seicento guardate che il don quixote è probabilmente il più grande romanzo che sia mai stato scritto prima di dire due parole sul brano che abbiamo letto in classe e che chi non era presente si leggerà abbiamo ascoltato tre canzoni italiane don quixote sanso pancia di francesco guccini amen dei marlene kunz e mulini a vento di carmen consoli che raccontano tre aspetti diversi di don quixote nel primo è andata a cercarvele su youtube nel primo anzi vi metterò il link su classroom nel primo abbiamo il don quixote classico che guccini rivisita come un eroe senza macchia e senza paura che si ribella all'oppressione si ribella al male del mondo e combatte nonostante tutto anche sapendo di essere destinato ineluttabilmente alla sconfitta e lo stesso fa sancio pancia quindi un eroe tragico in amen dei marlene kunz abbiamo don quixote come guitto dell'anima come un eroe che si rifiuta di accettare la realtà un eroe triste che cammina per le miserie del mondo e le combatte come li combattevano i giullari come li combattevano i guitti con l'ironia nel terzo di carmen consoli i mulini a vento sono la metafora delle lotte impossibili delle lotte destinate alla sconfitta come quella di falcone borsellino a cui è dedicata la canzone il brano dei mulini al vento ce l'avete sul vostro libro l'abbiamo letto coi vostri compagni è brevissimo ed è straordinario come un brano brevissimo perché la battaglia dura poche righe ve le leggo ve le leggo così dicendosi e raccomandandosi ardentemente alla sua signora dulcinea per chiederle che lo soccorresse in quel frangente ben coperto dalla rotella con la lancia in resta spinse ronzinanti a gran galoppo e investì il primo mulino che si trovò davanti avendo dato un gran colpo di lancia alla pala il vento la fece ruotare con tal furia che fece in pezzi la lancia trascinandosi dietro cavallo e cavaliere che rotolò tramortito per terra basta finito l'episodio dei mulini a vento è straordinario è un miracolo della letteratura che un episodio di poche righe diventi così emblematico diventi un simbolo tale da influenzare anche la musica contemporanea diventi uno stereotipo così forte che tutti lo conoscono a chiunque diciate voi don quixote vi dice mulini a vento i mulini al vento è un brano di dieci righe in un libro enorme è voluminoso perché perché un'immagine talmente forte è un'immagine talmente poetica quella di un uomo che combatte una lotta impossibile che diventa una metafora una metafora della lotta che è destinata alla sconfitta ma che bisogna comunque in ogni caso portare avanti per cercare di cambiare la situazione il fatto che qui don quixote lotti con un mulino a vento fa parte di quella poetica dell'assurdo che è tipica di cervantes e del don quixote ok ragazzi direi che può bastare come sto pango per poi riprendere e andare avanti Grazie.